Da Cocullo per la festa dei serpari siamo con... Guardia San Framonti, Peppino Spadino e l'amico Campanile. Qui anche l'anno scorso siamo venuti ed è bellissimo vedere la festa dei serpenti, grazie. Che cosa ti ha colpito in modo particolare? Il serpente! Il serpente? È un serpente che lo sei messo intorno... Sì, 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 però hai capito... È bello vedere la linguetta del serpente che passa vicino alla tua faccia? Mamma mia, sì, 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 bellissimo. Voi da dove venite? Da Guardia San Framonti. Dove vengono bene? Venite a Guardia perché? Eh niente, c'è il vino buono, punto. Lì c'è un briagam punto, punto. E venite a Cocullo perché? Ci sono i serpenti. E serpenti e vino è un mix speciale. Benissimo, ci facciamo questa frittura. Ciao, grazie.